Buonasera e benvenuti all'evento Arduino User Group & Wearable del 17 maggio 2022. Come ogni terzo martedio del mese teniamo un evento serale nel quale parliamo di argomenti cari alla community AUG & Wearable, in particolare Arduino, elettronica e questa sera IoT. Questa sera avremo con noi un ospite particolare, Salvatore Raccardi, direttamente collegato da Palermo, che ci racconterà il suo progetto. Prima però di passare la parola a Salvatore e alla sua presentazione, vi ricordo che l'Arduino User Group & Wearable è un gruppo libero e gratuito di appassionati Arduino e non solo. Sin dalla nascita dell'Arduino User Group & Wearable è stato ospitato da WeMake. In particolare, quando gli eventi si svolgono in presenza, siamo presso la sede del Makerspace a Milano. Quando, come questa sera, si svolgono in remoto, utilizziamo lo strumento Zoom messo a disposizione da WeMake ed il suo canale YouTube dove probabilmente starei guardando questo video in questo momento. Ti ricordo il sito WeMake, in particolare la sezione dedicata alle community, che ospita tre pagine dedicate alle tre community ospitate da WeMake e che sono rispettivamente Digital Fashion Night, Live Coding e Arduino User Group. L'evento si svolge dalle 19 alle 21. Di solito cerchiamo di stare nei tempi, più cercheremo di starci anche questa sera e di non prolungarci oltre due ore che ci siamo dati come termine. Nella pagina dedicata alla community Arduino User Group & Wearable trovi il link a Discord, al canale Discord messo a disposizione da WeMake per mantenerci in contatto anche nei giorni in cui non si svolge l'evento, quindi in tutti gli altri giorni del mese, ed il link al Google Group. Ogni anno, in occasione dell'Arduino Day, la giornata dedicata al compleanno di Arduino, WeMake e Arduino User Group & Wearable Milano organizzano un evento, una serie di presentazioni, racconti, esposizioni di progetti e trovi qui nella pagina di WeMake i link a tutte le precedenti edizioni, se volessi consultarle, vedere che cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo presentato. E infine ti ricordo che il gruppo Arduino User Group & Wearable è un gruppo Google all'interno del quale troverai tutte le discussioni degli argomenti di cui abbiamo parlato, è il nostro canale con il quale ci scambiamo consigli, chiediamo aiuto, ci diamo supporto, il gruppo è totalmente gratuito e poi chiedere l'iscrizione in qualunque momento ti verrà approvata nei giorni successivi. E passo quindi a presentare l'ospite di questa sera, il suo nome ve l'ho già detto è Salvatore Raccardi, si è collegato da Palermo e ci presenta un progetto molto speciale che lui ha chiamato Objects Link e che ha a che fare con l'IoT. Non mi dilungo oltre, lascio a Salvatore la possibilità di raccontare e esporre quella che è stata la sua esperienza partendo dalla prima idea fino alla realizzazione di quello che oggi è praticamente quasi un po' tutto finito. Ok perfetto, intanto mi presento un attimo, mi chiamo appunto Salvatore Raccardi, ho 22 anni, frequento il terzo anno di ingegneria informatica all'Università degli Studi di Palermo. Nonostante questo io comunque sono molto appassionato di elettronica, ho toccato per mano il mio primo led all'età di sette anni, questa passione mi è stata trasmessa dal mio padre e quindi diciamo ho portato avanti entrambe le passioni, sia l'elettronica che l'informatica contemporaneamente, infatti sono due cose che non riesco a guardare in qualche modo in maniera separata ma camminano assieme per me e nei miei progetti. Negli ultimi anni ho appunto condiviso una serie di progetti che ho sviluppato, tra cui appunto il progetto di cui vi parlerò oggi e ho riscosso un minimo di attenzione da parte delle persone, un po' giusto un paio di persone mi seguono su Instagram, su LinkedIn o anche su Twitter ed è stata diciamo un'ottima scelta da parte mia in cominciare a condividere appunto i progetti che sviluppavo perché mi ha permesso di senza ombra di dubbio di crescere, di capire come migliorare i miei progetti, le mie idee ed è un ottimo modo appunto per confrontarsi con altre persone dall'altra parte del mondo. Ora, come nasce il mio progetto? Allora, facendolo a breve, io mi sono diplomato nel 2019 e durante quell'estate ho iniziato a sviluppare alcuni progetti in maniera totalmente no profit, li condividevo su LinkedIn, su Instagram, eccetera. Mi hanno contattato delle aziende, altre società, comunque anche privati, per sviluppare progetti sull'IoT. Ho iniziato a sviluppare i miei progetti, ho iniziato anche a interfacciarmi con altre persone, comunque in generale con il mercato del lavoro e mi sono reso conto appunto che questa curva che vi sto per mostrare si stava realmente realizzando, cioè che la richiesta da parte delle aziende, da parte del mercato di sviluppare dispositivi smart, era in netta crescita. Infatti io sono passato da avere uno o due messaggi di richiesta di progetti IoT sul LinkedIn e su Instagram, uno o due messaggi al giorno, ad averne anche 10-20 in un solo giorno, proprio gente che chiedeva, privati di non solo aziende che volevano appunto in qualche modo digitalizzare i loro prodotti. Ora, per fare ciò, senza sombra di dubbio, non è semplice, cioè sviluppare un dispositivo smart richiede determinate competenze, è necessario un vero team di ingegneri o comunque di designer e non tutte le aziende appunto lo posseggono. Quindi la mia idea fin dall'inizio è cercare in qualche modo una soluzione per velocizzare ecco la fase di sviluppo di questi dispositivi smart. Ora, dietro all'IoT, se appunto vi è capitato di metterci mano, sicuramente vi sarete resi conto che è un settore davvero molto complesso. Ci sono in gioco tantissimi fattori, tantissime cose da tenere in considerazione e soprattutto è abbastanza costoso per chi inizia dall'inizio appunto sviluppare un prodotto smart, soprattutto i primi prototipi. Ora, sicuramente sul mercato esistono già delle soluzioni come potrebbe essere Arduino o NodeMCU o prodotti di Adafruit eccetera che permettono appunto agli utenti di sviluppare dispositivi smart. Il punto è che appunto quelli non permettono in realtà di sviluppare dispositivi smart ma permettono di sviluppare dei prototipi, dei prototipi sicuramente funzionanti ma non è l'hardware in qualche modo adatto, pensato per un dispositivo finito. Ora, l'idea che ci sta dietro al mio progetto è appunto questo, cercare in qualche modo ecco di standardizzare l'hardware che c'è dietro ad ogni dispositivo. Cioè io ricevevo, come io, come tantissime altre persone, riceviamo ogni giorno richieste da parte di privati o di aziende di sviluppare dispositivi smart. Molto spesso questi dispositivi sono a livello hardware davvero molto simili. E quando intendo molto simili intendo che molto spesso cambia solamente un sensore, cambia solamente un attuatore eccetera. È ovvio che queste aziende, questi privati non usano Arduino, non usano board commerciale di questo tipo ma vogliono un hardware totalmente custom perché le dimensioni devono essere di un certo tipo, devono essere ottimizzate in determinato modo e così via. Quindi in qualche modo c'è il problema di riuscire a fornire appunto a queste aziende dell'hardware per sviluppare dispositivi smart riducendo al minimo i costi. Allora non so se vi è mai capitato di ordinare i circuiti stampati o di appunto sviluppare qualche prototipo però è sicuro che sviluppare semplicemente 5-10 unità ha dei costi elevatissimi in confronto a 1000 unità. Questo perché? Perché purtroppo funziona in questo modo l'elettronica e quindi mi è capitato ad esempio da parte di privati e di aziende che la richiesta non c'era di 50-100 unità e quindi non si riusciva realmente a tirar fuori un prodotto realmente competitivo dal punto di vista di costi di produzione. Quindi la mia idea è intanto risolvere il problema legato appunto alla produzione ai costi finali del dispositivo smart ma anche a riuscire in qualche modo a sviluppare dell'hardware modulare che permettesse appunto di facilitare lo sviluppo di questi dispositivi. Un altro grande problema dell'IoT che nessuno in realtà parla, cioè in realtà se ne parla però ogni tanto ce lo dimentichiamo, sono i rifiuti elettronici. Cioè immaginiamo di avere sempre più dispositivi, sempre anzi più oggetti che diventano smart, connessi a internet. Cosa succederà in futuro? Succederà che qualcuno li dovrà smaltire. Cioè secondo gli analisti arriveremo nel 2030-2040 che ognuno di noi possederà almeno in media 30-40 oggetti connessi a internet. Ogni cosa sarà connessa a internet, l'armadio, il tavolo, ogni cosa sarà pieno di sensori e comunicherà con la rete. Però una volta che appunto decidiamo di sostanzialmente rimuovere uno di questi oggetti o comunque di buggettare uno di questi oggetti, sarà un problema perché se prima il tavolo era semplicemente legno, al suo interno poi ci saranno delle schede elettroniche che qualcuno dovrà smaltire. Ora è inutile dirvi che la maggior parte dei rifiuti elettronici non vengono smaltiti correttamente. Ora capite che se ogni hardware, per ogni dispositivo smart, anche simile e custom, è impossibile riutilizzare l'hardware. E praticamente non lo fa nessuno, nessuno si metterà mai a dissaldare componenti. Tutti parlano semplicemente distrutti, tutti assieme, non sarà più possibile recuperare nulla. Quindi la mia idea è provare a standardizzare l'hardware che ci sta all'interno dei dispositivi smart. Un po' come si fa tuttora con i computer, come si è fatto vent'anni fa o anche prima, che appunto c'è la scheda madre con un computer, c'è la CPU, c'è la RAM, quindi se uno di questi componenti si rompe è possibile sostituirlo anche a distanza di tantissimo tempo. Ci sono tantissimi computer, anche banalmente, non so, penso ai Bancomat, che girano computer con Windows XP e con hardware anche con RAM di DR2, di DR3, che ora non si usano più. Sono stati prodotti tantissimi anni fa per l'esigenza di mercato dell'epoca, ma tuttora possono essere riutilizzate. L'idea è di fare ciò. Ora, per fare ciò, la sfida a livello hardware di design, quando ho pensato questa cosa circa due anni fa, era e tuttora è abbastanza complessa. Non avevo due anni fa le competenze per riuscire a tirar fuori qualcosa di simile a un prodotto. Quindi in questi due anni è stato un percorso di crescita, cioè questo è un progetto che mi sono portato con me per un parecchio tempo, quindi non è un progetto che ho sviluppato in un mese e che sono passato a un'altra cosa. È un progetto un po' come più una tesi mia, anche se non la presenterò all'università perché non trattiamo questi tipi di argomenti. Comunque è un percorso che ho fatto io di crescita, quindi sono partito da un prodotto tipo iniziale che ora vi mostrerò e piano piano ho tirato fuori, diciamo, un prodotto. Ora, quello che si può notare dal punto di vista hardware di uno smart device è che ci sono degli ingredienti base che troviamo in ogni schiera. Abbiamo sicuramente una USB con un power jack, uno dei due, o un connettore per la batteria. Poi ci sono sempre degli elementi legati a tutta l'elettronica, tutta l'elettronica legata appunto a regolato di tensioni, tensione, battery manager, eventuali serabridge, poi c'è il cuore che è il microcontrollore, e poi vabbè, nel caso ad esempio di alcuni microcontrollori, cioè in realtà la maggior parte, quindi ESP32, microcontrollori della Nordic e così via, c'è tutta la parte di Wi-Fi e Bluetooth integrata, in alcuni di questi c'è ovviamente la parte anche l'ora a livello di comunicazione, ma c'è anche, ci sono tantissimi altri protocolli. Comunque l'idea di base è che è un dispositivo smart e composto in questo modo, poi c'è la parte esterna, diciamo, la parte che specializza, che io da ora in poi chiamerò modulo, c'è la parte che specializza il dispositivo, cioè il resto del circuito a una determinata applicazione. Quindi nel caso di un sensore di temperatura abbiamo appunto il sensore di temperatura con sempre la stessa ricetta composta sempre dagli stessi componenti che appunto abbiamo il microcontrollore e tutti gli altri elementi. Quindi per semplificare questo diagramma al blocchi, solitamente non è sempre così, infatti ripeto, l'IoT è davvero molto complesso. Andare a generalizzare un sistema che può essere utilizzato in diversissime applicazioni, cioè passiamo dalla smart home ad uso industriale militare, all'uso, non so, retail, l'IoT è davvero molto vasto. Quindi quando ho iniziato questo progetto ero consapevole del fatto che era un po' una pazzia tentare di in qualche modo tirar fuori un prodotto adatto per qualsiasi applicazione. L'idea del progetto in sé è di funzionare principalmente per applicazioni di smart home o comunque anche per il retail, ma sicuramente non è molto adatto per applicazioni un po' più specifiche come potrebbero essere la robotica in determinati contesti e così via. Comunque uno smart device semplificato, sicuramente al 100% c'è un microcontrollore, c'è un regolatore di tensione, non è sempre così, ma il 90% dei casi è in questo modo, anche perché attualmente la maggior parte dei microcontrollori non hanno un regolatore di tensione interno. Ora i nuovi microcontrollori come, in questo momento non mi ricordo il brand, la NXP se non sbaglio, ha integrato l'LDO all'interno del microcontrollore, tra l'altro questa cosa è molto interessante perché riduce notevolmente i consumi, tra parentesi, consumi, efficienza energetica è uno dei grandi problemi anche dell'IoT. Quindi l'idea è un smart device è composto da questi elementi e poi c'è sempre il sensore, l'attuatore o altri elementi che vanno a specializzare questi componenti principali. Ora, capite bene che se ci pensate un po' su direte vabbè, ma non sto tirando nulla di nuovo fuori, cioè ci sono sempre stati moduli ad esempio abbinabili con Arduino, con la NodeMCU, che ovviamente c'è la NodeMCU o la scheda che poi si attacca alla Shields, il modulo esterno. Il problema è che, come dicevo prima, queste board non sono state pensate per sviluppare dei prodotti. Ovviamente ci sono delle eccezioni. Nel caso di Arduino abbiamo tutta la linea Pro che, come saprete, è stata pensata per uso industriale. Infatti è totalmente un'altra cosa, lo si vede all'occhio nudo, che sono hardware totalmente differenti rispetto a Nano33 IoT. La stessa cosa vale un po' come nel mondo dell'ESP32, anche se in realtà non esiste qualcosa di simile, comparabile con quello che hanno fatto gli ingegneri ad Arduino, però l'idea di base è che le board che ci sono attualmente sul mercato la maggior parte sono pensate per un uso di sviluppo di prototipi. Poi ci sono delle board intermedie come queste in basso che tra l'altro sono state sviluppate da un maker che si chiama Unxpected Maker, se non sbaglio. Dovrebbe essere dell'Australia questo ragazzo. Comunque, vabbè, è molto bravo nel PCB design. Queste PCB, diciamo, tuttora queste appunto dal design si capisce bene che sono appunto pensate per la prototipazione, però come vedete sono delle soluzioni sempre più compatte. A destra abbiamo, in alto a destra abbiamo, una soluzione della Seed Studio e poi in basso della DaFruit. Come vedete, comunque il trend, tra l'altro, le board in alto a sinistra che vedete sono, diciamo, board con design un po' più vecchiotto, il trend è quello sempre di più di rimpicciolire al massimo le dimensioni delle board. Però, come potete notare, ci sono sempre gli header a 2.54 mm. Questa è una costante che si portano, appunto, che il design, diciamo, si è portato appresso un attimo, perché, diciamo, è un po' la chiave della prototipazione, perché ormai tutti i moduli di sensori, anche attuatori, motori, sono stati progettati e pensati con quel tipo di connettore. Quindi, se non metti quei connettori, sostanzialmente quelle board non le puoi nemmeno utilizzare in una breadboard, quindi non è fattibile come cosa. Infatti, per cercare, ora vedrete, di risolvere il problema delle dimensioni, ho, diciamo, ho fatto una mezza passina, nel senso, ho cercato di andare un po' fuori dagli schemi, quindi mi sono reso conto che dovevo, dovevo appunto non utilizzare questi tipi di connettori. Comunque, in generale, la nuova board, ecco, che dovevo sviluppare, doveva in qualche modo essere in mezzo tra una board di prototipazione stile Arduino, o NodeMCU, e una board totalmente custom. Ovviamente doveva ereditare, un attimo, i pregi di una e i pregi dell'altra, di una board custom. Quindi, sicuramente, doveva in qualche modo avere un prezzo ragionevole rispetto a una board totalmente custom. dovrebbe essere facile da riutilizzare e ottimizzata sia dal punto di vista energetico che di design, e quindi, in qualche modo, cercare di far incastrare le cose. È ovvio che per fare ciò non è affatto semplice. Tra l'altro, ho fatto questo grafico, vorrei mostrare un attimo come, in generale, le board vengono progettate, comunque, a livello di hardware, design, eccetera. Cioè, ci sono delle board, come quelle di Arduino e NodeMCU, che sono pensate principalmente per prestare un occhio in mezzo. Non so se vedo il mio mouse, comunque spero di sì. Comunque, più o meno in quest'area di prototipazione iniziale, che ovviamente, da parte del maker o dell'ingegnere, ci deve essere un tempo bassissimo nella prototipazione, nello sviluppo. Ovviamente, la fedeltà, la stabilità dell'hardware è quella che è, l'ottimizzazione energetica. In alcuni casi esiste, in altri no. Comunque, in generale, l'hardware che sta qui in mezzo non può essere utilizzato solitamente per un dispositivo finale. L'idea della mia nuova board è, appunto, che in qualche modo, l'obiettivo è che quello che devo sviluppare doveva stare in qualche modo qui in mezzo, tra un dispositivo finale e un prototipo. Comunque, hardware pensato per questi tipi due di utilizzi. Ora, sicuramente i tre elementi chiave della board che devo andare a tirar fuori, dove essere innanzitutto modulare, per permettere, appunto, di essere adattata più facilmente su diversi design, dove essere compatta e riutilizzabile. Ora, ritornando al discorso del sensore di poco fa, come vedete, ho cercato di rappresentare un dispositivo smart molto semplice con questo diagramma a blocchi. Quindi abbiamo un insieme più grande che l'IoT device, dove ci sono le parti meccaniche, le parti stampate in 3D, eccetera, Poi al suo interno abbiamo ObjectsLink, che è il nome della mia board. Piccola parentesi, perché si chiama ObjectsLink? Objects, semplicemente, cioè in inglese oggetti, si dice Objects e finisce con CTS. Io ho rimosso CTS, ho messo la X, che è un po' l'incognito comunque, la variabile, e poi Link che collega. Quindi il nome è abbastanza autoesplicativo. Quindi abbiamo appunto la board che si chiama ObjectsLink e i moduli che si attaccano appunto sulla board stessa e che appunto permettono di specializzare la board principale che è ObjectsLink proprio per l'applicazione che si desidera appunto sviluppare. Quindi abbiamo la board principale, nel caso dell'esempio a destra, il sensore di temperatura e umidità, e poi c'è tutto il case esterno. In questo modo, ad esempio, un maker comprando la ObjectsLink o comunque il modulo può stamparsi da solo il design 3D e quindi tira fuori un dispositivo quasi finito. È sempre lì in mezzo tra un prototipo e un dispositivo finale. Su questo discorso ci ritorneremo dopo, perché sviluppare un hardware che permetta di passare da un prototipo molto base a un dispositivo finale con determinate caratteristiche è davvero molto complesso, perché un dispositivo finale appunto deve rispettare determinati standard. Ora, i primi prototipi che ho sviluppato due anni fa capite bene che erano un po' così, nel senso che utilizzavo ancora i pin header, i connettori header, però ho iniziato a capire se il concetto di modularità potesse in qualche modo funzionare. Quindi quello che ho fatto, come vedete, sono tre board, quindi tre moduli. Quello che ho fatto è appunto il primo modulo in basso, diciamo, alla base del dispositivo e appunto si occupa tutta la parte di potenza, comunque era possibile collegare la batteria e tutto il resto. C'è una USB-C. Tra l'altro, tra parentesi, due anni, due anni e mezzo fa sono stato non il primo assolutamente, ma uno dei primi ad adottare la USB-C sulle PCB, perché all'epoca e ancora tuttora molti usano la micro USB-B, che io per esperienza non ho più utilizzato, perché se non si acquista il connettore di marca, quindi tipo della Molex o altri brand, il rischio è che si sfondi letteralmente dopo un po' di utilizzi, perché fanno questa fine purtroppo. Ovviamente se si compra un buon connettore, il problema non esiste, però ho voluto fare questo switch con la USB-C anche per tentare di fare qualcosa di diverso, anche perché volevo in qualche modo provare a innovare anche a un minimo la PCB. Comunque, in generale, l'idea qui, come vedete, c'è un Esplot 266 al centro e sopra c'è un MPU 60-50, che all'epoca, tra l'altro, costavano 1,50 euro, oggi per lo shortage costano 9 euro, questi chip, ed è una cosa a sud. Comunque, l'idea di questa board era appunto provare la modularità, questa PCB, questo dispositivo, quello che faceva, oltre a un attimo validare un attimo il concetto di modularità, era semplicemente un test in cui muovendo la board, semplicemente questi led che vedete in alto, si accendevano, si spegnevano a seconda di come si inclinava la PCB. Comunque, lasciando stare appunto i connettori header, il 13 gennaio 2020 Arduino appunto rilascia la portante H7, che è una delle primissime board che adotta appunto i connettori SlimStack. Allora, di connettori SlimStack ce ne sono di diversissimi tipi, quelli che adotta Arduino sono con appunto un profilo abbastanza alto, quindi abbastanza resistenti per l'utilizzo industriale, e quindi questa cosa mi incuriosisce parecchio, perché io già conoscevo questi connettori SlimStack, perché guardando un suo video online di gente appunto che riparava smartphone o anche PC, questi connettori SlimStack escono fuori di continuo, aprendo banalmente uno smartphone che se ne trovano a decine, però non avevo deciso di utilizzarli proprio perché era un po' una pazzia, nel senso che andare a saldare questi connettori così piccoli, reperirli, scegliere il connettore più adatto, cercare di standardizzare le connessioni, era abbastanza complesso. Poi il 19 ottobre 2020 Raspberry rilascia le CM4, le Compus Module, e quindi mi dà la conferma che quei connettori in qualche modo forse potrebbero essere un'ottima soluzione. Allora, il 13 dicembre 2020 io sviluppo la mia prima scheda, Objects One, che appunto non è Objects Link, perché Objects One? Perché l'idea di questa board era appunto di testare i connettori SlimStack e rivalidare ancora di più il concetto di modularità. Come vedete, questa board è già nell'arco di circa sei mesi di differenza rispetto alla board precedente, a livello di complessità tecnica è notevole, perché considerate che questa board, oltre al discorso di connettori SlimStack, è già una board con quattro layer e tutto il resto. Come vedete, non c'è il microcontrollore, perché all'epoca un'idea che mi era venuta era di rendere modulare anche il microcontrollore, quindi cambiare sia il microcontrollore, sia i sensori attuatori, e quindi la board principale gestiva solamente tutta la parte di alimentazione e di comunicazione dei dati. Ovviamente l'idea poteva essere interessante nel senso che con la stessa board io potevo utilizzare un NRF, un ESP32, quindi cambiò il microcontrollore, ovviamente standardizzando tutta la pliniatura e quindi riuscivo ad utilizzare sulla stessa board i microcontrollori differenti. Perché non è vincente? Perché sostanzialmente i costi finali erano così elevati che non ne valeva la pena. Sostanzialmente è un altro discorso legato alla modularità, cioè rendere un sistema modulare è sì conveniente, però quando è eccessivamente modulare sono più i problemi che i benefici. Quindi questa è un'altra cosa che ho imparato da solo sperimentando che doveva appunto passarsi per capire la cosa. Qui è appunto mentre sviluppo la board, la saldo tutta con il microscopio, come vedete a destra si vede il microcontrollore e il sensore. Tra l'altro ho iniziato all'epoca ho sperimentato pure con i primi circuiti flessibili, quindi erano dei cavi flessibili che mi permettevano appunto di attaccare i sensori che erano appunto connessi alla board anche esternamente. fare questo test di utilizzare cavi flessibili era perché giustamente se voi avete uno smartphone o anche un dispositivo smart un po' più complesso noterete che per un discorso di design o di ottimizzazione si usano molto spesso questi PCB flessibili proprio per cercare di far stare dentro a un dispositivo smart molto compatto più elettronica possibile è facile di datarne anche lo sviluppo e tutto il resto comunque sono delle esigenze un po' più particolari comunque l'idea era di testare anche vi ripeto è tutto un percorso che ho fatto quindi determinate implementazioni che ho fatto avevano come scopo come obiettivo sperimentare alla chiave c'era quello all'epoca non c'era l'intenzione di tirar fuori un prodotto ma semplicemente di capire di imparare cose nuove finalmente lancio la prima versione di Objects Link come vedete è nettamente più compatta la scheda pensate che è grande solamente 24 mm per 24 mm sopra c'è un S32Pico D4 c'è tutta la parte ovviamente RF che quella è stata davvero complessa a tirar fuori qualcosa di un minimo calibrato vabbè poi c'è il serial bridge sempre USB-C e come vedete sulla destra ci sono i connettori Slim Stack sono qua in questa versione comunque in generale poi l'ho mantenuto in questo modo sono quattro connettori Slim Stack che costituiscono il socket principale è possibile sia collegare due moduli piccolini quindi che in qualche modo occupano solamente due connettori Slim Stack o collegare un modulo più grande che occupano tutte e quattro ovviamente dipende dal tipo di modulo e dall'esigenza che si ha queste sono alcune foto che ho fatto esteticamente e anche a livello di performance era abbastanza soddisfatto solamente che c'erano quelle cose che appunto volevo un attimo sistemare e ottimizzare quindi come vedete anche dalla foto quello nel mio dito è davvero estremamente compatta come dimensioni all'epoca questa versione era compatibile solamente con Arduino IDE o comunque con anche l'ambiente di sviluppo di Espressif ma non con MicroPython l'ESP32 Pico D4 è sicuramente un ottimo mio controllore non è il migliore dal punto di vista di efficienza energetica ma quelle appunto sono le migliori che poi farò successivamente Wi-Fi Bluetooth 4.2 e così via nel frattempo appunto per sperimentare il concetto di modalità ho iniziato a sviluppare dispositivi smart così per test questo era un IoT button come vedete la lipo o comunque in generale il design anche dovuto al pulsante era un blocchiettino abbastanza spesso però già da lì incomincio a capire che sviluppare dispositivi smart e cercare di rendere modulare l'hardware è davvero molto complesso però diciamo questo è un problema che risolverò successivamente come vedete invece utilizzano dei sensori quindi non il pulsante la PCB il design è davvero estremamente compatto considerate che la PCB principale Objects Link è spessa 1.6 mm i moduli sono spessi 0.8 mm comunque con la USB-C e tutto il resto siamo inferiori come spessore siamo sotto ai 5 mm capite bene ritornando al discorso di poco fa un Arduino Shield o comunque una NodeMCU eccetera queste dimensioni non le può ottenere semplicemente perché ci stanno a chiedere appunto perché quell'hardware pensato per fotografare non per dispositivi smart ho sviluppato anche uno smart spotlight un attimo per testare con questa PCB in alluminio con dove ci sono sopra se non sbaglio 36 o 42 led non ricordo funzionava perfettamente funziona tuttora la utilizzo poi successivamente ho sviluppato Objects Link 1.5 quali sono le migliorie come vedete in alto a sinistra c'è un connettore molto piccolo per la batteria quindi ho cercato di ecco mantenere il design il più piccolo possibile nonostante le modifiche e le implementazioni che ho fatto quindi sempre 24 mm per 24 mm c'è appunto il led RGB e non solamente il led di stato di power come poco fa e vabbè qui un attimo la foto rispetto alle altre schede che ci sono sul mercato ho ripreso in mano l'idea dei cavi flessibili l'ho battizzato in questo modo in realtà sono delle PCB flessibili comunque come vedete ad esempio questa soluzione a sinistra è una soluzione direte voi cosa è sostanzialmente come vedete il sensore di temperatura che è l'HDC 1080 della Texas Instruments è collegato alla board quindi a Objects Link con questo cavo flessibile perché non collegare il sensore direttamente lì non so se vi è mai capitato ad esempio con le Nano 33 IoT o anche con altre board simili il problema principale di avere sensori di temperatura integrati sulle board è che il valore che leggete di temperatura molto spesso non è corretto perché perché in alcuni casi capita che o perché c'è l'LDO o perché c'è il microcontrollore sostanzialmente surriscaldano quindi il valore di temperatura che leggete non è diciamo in qualche modo è influenzato dalle temperature alcune volte anche notevoli dei microcontrollori soprattutto se c'è di mezzo diciamo nel caso dell'ESP32 che ha il modem integrato sia Bluetooth che Wi-Fi e il surriscaldo parecchio in alcuni casi quindi ho pensato questa soluzione per in qualche modo essere sicuri che il valore eletto dall'HDC 1080 appunto è quello corretto e non è influenzato in alcun modo dal calore sviluppato appunto dal microcontrollore quando ad esempio si collega a Wi-Fi o comunque fa particolari operazioni oltre appunto ai moduli ho sviluppato dei moduli un po' più speciali che anche qui mi sono divertito a battezzare con i nomi cioè la protoboard che per intenderci è semplicemente protoboard e socket come vedete c'è questa scheda piccolina che è appunto il socket in sé che dove ci sono sopra i connettori SlimStack con i castellate walls che sono questi diciamo questi pad diciamo sono appunto sono dei fori a tutti gli effetti comunque esatto tagliati a metà perché è quello il concetto comunque che sono collegati con con l'altro PCB che è appunto dove ci stanno gli header l'idea di questa di questa di questa soluzione è appunto di ad esempio nel caso di protipazione quante volte vi capita non so di sviluppare prototipi avere non so avete bisogno di sviluppare tre prototipi contemporaneamente a me ad esempio è capitato avendo la partita IVA lavorando con aziende eccetera capita di avere più schede impegnate comunque a posto di avere tre non so tre nodo MCU tecnicamente per per evitare appunto di scollegare ogni volta cavi dalla 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 scheda eccetera l'idea era appunto di sviluppare queste protoboard in modo da staccare solamente la 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 Ogni volta tutte le connessioni, appunto perdere in alcuni casi, ma è molto spesso è capitato, diciamo, onestamente è una soluzione che ho pensato proprio perché lavorando avevo appunto questa esigenza. Tra l'altro ho fatto anche alcuni test con un attimo, diciamo, mettendo in comunicazione la Raspberry comunque con Objects Link, appunto facendo anche scrivendo degli script per programmarla in automatico, comunque ho fatto dei test anche lì. Poi finalmente ho sviluppato la Objects Link 1.6 che è, diciamo, la versione ottimizzata, basata su ESP32 Pico D4. Come vedete, diciamo, rispetto alle versioni precedenti non c'è ad esempio il bottone di reset perché occupava spazio, qui l'ho integrato perché degli utenti me l'hanno richiesto. E comunque in generale ho sempre di più ottimizzato l'elettronica che ci sta appunto sopra. Sicuramente dal punto di vista di efficienza energetica è molto, è nettamente più prestante rispetto alla versione precedente perché ho fatto appunto, ho collegato un transistor all'ingresso delle enable e delle LDO, quindi è possibile in qualche modo togliere l'alimentazione dal microcontrollore esternamente perché purtroppo l'ESP32 Pico D4 in Deep Sleep Mode non è dei migliori microcontrollori, però tra, diciamo, la famiglia degli ESP32 all'epoca, che ancora non esisteva l'S3, erano uno dei migliori dal rapporto JP o efficienza energetica. Ad oggi c'è l'ESP32 S3 che è nettamente più efficiente. Qua ci sono delle foto, comunque ho fatto davvero tantissime migliorie sui moduli e su tutto il resto. Come vedete qui, ad esempio, tutto quello che vedete qui l'ho progettato io, pure l'enclosure e tutto quello che ci sta sopra. Qui devo fare appunto un ringraziamento all'azienda appunto che mi ha fornito tutte queste cose perché capite che dietro ci sono dei costi enormi di progettazione di ogni singolo prototipo. Poi finalmente l'ESP32 ha rilasciato il primo microcontrollore RISC-V e ho sviluppato appunto questa versione 1.6 C3 che è sostanzialmente molto simile alla precedente, solamente che è più efficiente dal punto di vista energetico e soprattutto ha il nuovo ESP32 che ha il Bluetooth 5.0 ed è compatibile anche questo con MicroPython. Poi ho sviluppato infine la 1.7 C3 che, diciamo, la differenza principale rispetto alla 1.6 C3 è che non c'è più il serial bridge, c'è l'RTC esterno e quindi è possibile avere in deep sleep, diciamo, dei consumi intorno ai 12 microampere, che è un ottimo risultato per il tipo di microcontroller che ci sta sopra, però parlandone appunto apertamente, in alcune applicazioni da IoT come potrebbe essere, non so, un sensore che vogliamo tenere, non so, nel nostro appartamento e vogliamo assicurarci che la batteria duri per 3-5 anni, capite bene che queste soluzioni così non sono ancora del tutto sufficienti, però sicuramente con un giusto firmware e con le giuste ottimizzazioni si possono ottenere appunto delle ottime performance. Diciamo che il problema principale del sviluppare appunto dispositivi smart, comunque hardware per dispositivi smart, è l'efficienza energetica. Lì, diciamo che il microcontrollare fa, diciamo, che è il microcontrollare che in qualche modo dovrebbe, tra virgolette, risolvere il problema. Ho scelto appunto, tra l'altro, gli ESP32 e non altri microcontrollari perché ci sta dietro una community molto più vasta, ad esempio rispetto agli NRF, che ad esempio gli NRF della Nordic sono nettamente più efficienti, però la community che ci sta dietro è nettamente più piccola, quindi per un attimo, per cercare di assicurarmi che in qualche modo non ci siano problemi dal punto di vista di libreria, eccetera, ho deciso di adottare questo microcontrollore. Poi ho sviluppato il mio primo panel, comunque come vedete dal punto di vista di design, nettamente ci sono state delle migliorie continue, e in generale comunque ho anche sviluppato una versione con la PCB esterna, no, perdonate, con l'antenna sulla PCB e anche con un mini connettore coassiale, ho anche appunto tirato fuori un minimo di scatola di packaging dell'idea del prodotto, ho venduto su tindi più o meno a 15 ordini, ho processato, comunque in generale ho venduto una trentina di kit, il progetto, una parte open source, cioè tutti i mobili sono open source al 100%, è su dtab, e invece objects link non è possibile, per un discorso di evitare di fare sviluppare, che già mi sono capite delle cose in passato, comunque per evitare di tirar fuori dei cloni, objects link come board, comunque come file di produzione, non li ho messi semplicemente per questo, per evitare cloni, niente di chi è. E niente, questa è un attimo la storia del progetto, spero sia stato appunto interessante, capite che è un progetto che è andato nella mia testa due anni fa, si è evoluto nel tempo, e il futuro in sede del progetto è che continuerò a ottimizzare, o comunque in generale con i progetti che sviluppo c'è una continua ricerca nell'ottimizzare quello che sviluppo sostanzialmente. E niente, vi ringrazio dell'attenzione. Beh, la presentazione è impeccabile, vi faccio i complimenti anche per come hai presentato, il linguaggio, la chiarezza di quello che ci hai esposto, del tuo percorso, è davvero una cosa molto interessante, e estremamente matura, sia nel progetto, quindi in tutta l'evoluzione del progetto, sia come l'hai affrontato. L'hai affrontato in maniera veramente, veramente interessante, veramente impressionante. Sicuramente hai affrontato tantissimi temi, quindi sarebbe da parlare per ore, ma del resto dici, ma io ci ho dedicato anni della mia vita, ci sta che non si riesca a raccontare tutto in una presentazione di un'ora. Sì, no, più che altro perché appunto, sono successe così tante cose negli ultimi due anni che è anche difficile per me ricordarmi appunto di come ho affrontato determinate problematiche, perché alcune cose appunto, cioè di mie abitudine solitamente quando affronto un problema vado sempre di diagramma a blocchi, quindi me la strutturo in quel modo, però è ovvio che certe cose, ad esempio le scrivo nella lavagna, poi le cancello, ci ritorno. Ti ripeto, noi ci siamo sentiti quattro mesi fa e da quattro mesi fa ad oggi sono cambiate tantissime cose, cioè la mia visione del progetto è cambiata. Appunto per questo c'è, è una cosa che ogni volta ci tengo a sottolinearla che è un progetto che è cresciuto con me, quindi quello che si vede è che anche l'idea che mi sono fatto dell'IoT o di tutto questo mondo è cambiata e evolverà continuamente e più ci lavoro e più ci sto dietro, più mi rendo conto di saperne meno, quindi è un continuo inseguire la perfezione, ma che onestamente parlando ancora non l'ho raggiunta e non credo che sia appunto semplice riuscire a tirare fuori un qualcosa che riesca in qualche modo a risolvere questi problemi, anche perché tirare fuori una board, comunque mi vado a piazzare in un mercato davvero, cioè ero consapevole del fatto che era un settore particolarmente saturo, ci sono dei player molto grandi, c'è Arduino, ci sono tantissime in realtà, quindi riuscire a mettersi in mezzo, a trovare un attimo la quadra a livello di design è complesso e soprattutto una cosa che appunto mi sono dimenticato è che la parte più complessa di tutto questo progetto è poi trasformare quest'idea in qualcosa appunto di, non so, più a livello di una startup o qualcosa del genere, perché come ne avevamo parlato anche assieme, produrre in grande quantità questi tipi di PCB o comunque con questi tipi di connettori, stare dietro al test di qualità, anche per questo ho sviluppato tutte cose a mano, anche per rientrare i costi, ma anche per avere un controllo totale su quello che stavo sviluppando in generale. Anche perché essendo quando si, piccola parentesi, quando si, appunto, l'obiettivo è standardizzare e passa così tanto tempo, le scelte che hai fatto in passato rimangono lì per sempre e quindi ogni scelta, ogni standardizzare il pinout e tutto il resto davvero, cioè diventa davvero molto complesso. E niente. Certo, problemi che tu hai esposto molto bene a che comunque chiunque abbia affrontato un progetto in parte si rende conto, si è dovuto confrontare con queste problematiche, che sia poi un progetto di IoT o no, però effettivamente... No, assolutamente. C'è stato un momento molto carino in cui hai parlato dei computer, quindi dei concetti che hai ai computer e poi un secondo momento in cui nel racconto della tua storia e della tua evoluzione del progetto ti sei trovato a fare una motherboard fondamentalmente, una motherboard per IoT, riconoscendo come tu stesso hai detto poi che però il problema di avere il processore separato comportava dei costi superiori ai vantaggi. Sì, esatto. Questo è il problema, secondo me, che ogni studente di ingegneria o comunque ingegnere ha, nel senso che è una cosa che... Cioè, molto spesso no? L'errore che si fa è sviluppare qualcosa di tecnicamente efficiente, ma che poi non incontra le richieste dal mercato. Questo è il grande errore che io da studente di ingegneria comunque immagino che... Comunque l'ho sentito dire più di una volta che ogni ingegnere fa. Cioè che si concentrano solo sul punto di vista tecnico che è una figata, che è bellissimo e carino, ma poi può anche non vendere. E quella, diciamo, è un'altra cosa su cui appunto mi sono scontrato che è un attimo l'altra faccia dell'altra medaglia nel progettare appunto un prodotto. Comunque tentare di progettare un prodotto. Certo. Ringrazio tutti i colori che sono intervenuti. Non vi nomino uno per uno, ma sapete che ci conosciamo da tanto tempo. C'è qualcuno anche di nuovo e la cosa mi fa estremamente piacere. Ringrazio tutti. Ringrazio di nuovo te, Salvatore. Grazie a voi. Grazie a voi.